Lo stacco della macchina Problemi per il favorita Ivaris Griff Che sbaglia esserimente a fondo gruppo In vantaggio Istrische nei confronti di Iosidiceo 14-2 lancio Istrische AF in vantaggio Allargo Iruenza GV Poi Iosidiceo 429-7 con Istrische e Battistrada nei confronti di Iruenza Iosidiceo, incredibile lei Isob DL Imeijo Vance, Ilenia OS A chiudere Idy del Colle Che precede Ivaris Griff 44-9-600 Istrische e Battistrada nei confronti di Iruenza E Iosidiceo Poi incredibile lei Metà corsa in 1 minuto e 6 decimi Con Iruenza GV che insiste a largo di Istrische In corda rimane Iosidiceo A largo incredibile lei La terza corsia di Imeijo Vance Il chilometro in 1-15-7 da fondo gruppo Prova a ritornare Ivaris Griff Tre quarti della retta opposta Con Istrische che allunga e si libera di Iruenza GV In corda in quota Iosidiceo Gli altri che fanno un po' fatica di intervenire Istrische che adesso ha due di margine nei confronti di Iosidiceo Muove Idy del Colle La cui scia è presa da Ivaris Griff Addirittura di arrivo con Istrische che entra con tre buone lunghezze di vantaggio Nei confronti di Iosidiceo Istrische a F in chiarissimo vantaggio In mezzo alla pista finisce bene Ivaris Griff Istrische a F però padrona della situazione Viene a vincere nei confronti di Ivaris Griff Tornata alla grande Poi per la terza moneta Tre cavalli in linea Iruenza incredibile lei E Idy del Colle 2-1-4 il riferimento cronometrico Grazie a tutti